Benvenuti, cari follower. Quindi, un avviso di forti temporali e maltempo domani, mercoledì 7 agosto 2024. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci premendo il pulsante Mi piace per questo video e grazie a tutti per il vostro contributo. Supporto continuo. Se domani, mercoledì, si diffonderanno forti temporali sulle regioni del nord e del sud Italia. Questi temporali saranno forti, soprattutto nel periodo serale, e sarà molto difficile determinare con precisione le zone interessate dalle piogge, come diremo in questo video, non necessariamente pioverà tutta, ma in alcune zone pioverà e in altre no, perché i temporali sono noti per essere difficili da monitorare e quindi domani, mercoledì, sono attesi piogge e temporali. Tutto di Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli Venezia, Giulia Veneto, Emilia Romagna, Liguria Piemonte Valle, da Aosta Umbria, Abruzzo Campania, Calabria, Basilicata Sicilia. Le piogge saranno improvvise e accompagnate da vento, grandine e rischio di allagamenti improvvisi. Pertanto, domani, mercoledì, in Italia è fortemente richiesta prudenza dalla mattina fino a mezzanotte. Qualsiasi altra notizia importante cercheremo di aggiornarvi più tardi.